Fischio ad inizio, avanza Luca, palla al piede. Ciao mamma. C'è il pressing alto della mamma. Dove sei stato? Luca però si disimpegna bene. A scuola. E c'è la marcatura uomo stretta della mamma. E come mai la tua professoressa non ti ha visto? Ma Luca si inventa un numero! E ci credo, è guercia. E segna! Certe partite non possono essere amichevoli. Come il quinto trofeo team tra Juventus, Inter e Milan il 20 luglio a Trieste. Seguite la partita su Canale 5 alle 20 e 30 o acquistate i biglietti alle ricevitorie l'automatica autorizzate. E guardate i biglietti alle ricevitorie.